Un ciao ciao a tutti da Ferdi, oggi andremo a vedere la nuova SJ5000X Questa è la nuova SJCAM SJ5000X, pure questa è dotata di un chipset Novatec 9660 come la tendenza attuale per tutte le action cam di fascia media economica può registrare col 2K e anche col 4K Andiamo ad esaminare l'interno della nostra scatola che si presenta nella classica forma SJCAM Qui ci sono tutte le specifiche che potete vedere C'ha un sensore da 12 MB della Sony MX078 La possibilità del stabilizzatore giro C'ha uno schermo da 2 pollici Novatec come avevo detto il 9660 Formato del video in MP4 Va bene, poi andremo a vedere meglio queste informazioni Andiamo a vedere la CAM solita plastica Allora, io qui devo fare un appunto alla SJCAM perché come vedete il case è sempre quello classico della vecchia SJ5000 Cioè questo tipo di tasti purtroppo anche se li hanno ammorbiditi Purtroppo presentano sempre il difetto che l'utilizzatore quando viene usata così la CAM Non riesce a capire quando il tasso sottostante viene attivato o no Questa è un case che viene fornito diciamo attualmente Questo che vi faccio vedere è un case di una SJ5000 di un anno fa Come vedete nulla è cambiato, tutto uguale Potevano fare di meglio almeno con i tasti Potevano mettere dei tasti di nuova concezione Tipo i New Style Vedete qui in questo case Che sono molto più morbidi E consentono di evitare quel difetto che vi ho detto Quindi sempre il solito case Di vecchio di un anno Non credo che ci volesse molto per fare Tipo questo con i New Style Con i bottoni grandi Che uno diciamo può utilizzare meglio E molto più comodamente Che racchiude questa CAM Che vedete qui Le dimensioni sono 61 mm Per 2,5 x 42,5 Quindi le dimensioni sono leggermente più grandi Di tutte quelle che hanno una tendenza Ad assomigliare come dimensioni alla GoPro Per poter utilizzare gli accessori Mentre la SJCAM 5000 X Purtroppo non entrerà nei droni Che hanno il gimbal Diciamo per poter utilizzare le GoPro Perché le dimensioni come vedete Sono leggermente superiori Sia in altezza E sia in larghezza E forse va bene lo spessore Lo spessore potrebbe pure andare Però è più grande E qui c'è la GTAP 2 Che è invece uguale La AMK 5000 S La Firefly 6S Possono usare tutte tranquillamente Gli accessori GoPro Mentre questa qui purtroppo Ancora mantiene i suoi canoni E quindi bisogna usare Per forza questo case Che a mio parere Ormai è obsoleto E andrebbe cambiato Andiamo ad analizzare la CAM Sulla parte frontale Abbiamo l'obiettivo Abbiamo il tasto MODE Che vedete qui Avviciniamoci un po' Poi ci sono i due LED di notifica Sulla parte inferiore Abbiamo lo sportellino Che apre il coperchietto Per l'alloggiamento della batteria Sulla parte sinistra Abbiamo l'uscita HDMI La presa micro USB Per la limitazione a trasmissione dei dati E qui abbiamo l'alloggiamento Per la micro SD A differenza di altre La SJCAM Non può usare Il microfono esterno E non può avere Un telecomando Questa è la loro politica Non so perché Non si adattino A queste nuove esigenze Dei utilizzatori Non l'abbiamo mai capito E una cosa Vorrei chiedere ad SJCAM Perché non risponde Alle mie e-mail Sono 18 mesi Che mando delle e-mail Di richiesta informazione varia Però non ho mai Ricevuto una risposta SJCAM Perché non rispondi Alle e-mail Questa è una domanda Che in molti Vorrebbero fare a voi Allora Proseguendo Le CAM in cui vedrete L'ingresso micro SD Non sarà possibile Utilizzare il microfono Esterno Questo proprio per una questione Di mancanza di contatti Per poter usare Il microfono esterno Le CAM devono avere La mini USB E allora In quel caso È possibile Potrebbe essere possibile Usare il microfono esterno Non tutte Non tutte C'è questa possibilità Continuiamo Nella parte posteriore Vediamo Un bellissimo Schermo Da due pollici Veramente Molto definito E molto chiaro Con un LED Di notifica Qui vediamo Nelle informazioni Del menu Vediamo L'indicazione Del tempo Rimanente La La modalità Di risoluzione Impostata Il livello Della batteria Poi Vediamo La data Vediamo L'orario E vediamo Il FOV Sarebbe L'angolo Che in quel momento E' impostato Nella nostra Risoluzione Nella parte destra Troviamo Il tastino Per L'attivazione Del wifi E i tastini Sotto e sotto Per Spostarci Sui menu Parte superiore LED Di notifica E il tasto Di conferma Il tasto ok O il tasto D'avvio Delle foto Per scattare le foto O avviare i video Andiamo a vedere I menu Nei menu Si accede Premendo Il tasto mode Abbiamo La prima funzionalità Si va Nella sessione Fotografica Nella seconda Si va Nel menu Vedete Ha un menu Tipo di icone Poi Spostandoci Come No abbiamo La uscita tv Che può essere Off E on Poi Abbiamo La funzione Videolapse Se vogliamo Creare un videolapse Abbiamo la funzione Fotolapse Abbiamo la funzione Playback Vedete Ci fa vedere Tutti i filmati Che sono Inseriti Nella nostra memoria E cosa più importante In questo menu E il setup Che andiamo A vedere Ho fatto L'impostazione Italiano Andiamo a vedere La dimensione Che è la prima voce Delle nostre risoluzioni Abbiamo Le varie risoluzioni 4k 24 fotogrammi Per secondo Il 2k 30 fotogrammi 1080 60 E andiamo avanti Nelle varie risoluzioni Impostiamo Il 1080 60 Che è quello Che io uso Principalmente Poi il ciclico Record Se vogliamo Fare dei filmati Di un certo tempo Poi Il FOV Qui è una funzione Molto importante Secondo me Un po' esagerata Perché mettere 4 angoli Secondo me È stato un po' esagerato Comunque Si possono ottenere Dei video Da 170 gradi Che poi Secondo me Non sono 170 gradi 140 110 E 70 gradi Mettiamo 170 gradi Il VDR In una specie Di HDR Un miglioramento Dell'immagine VDR Off On Possiamo inserirlo In poche parole Sarebbe La stessa cosa Dell'HDR Solo che l'H Vuol dire Height Mentre in questo caso L'acronimo È Wide Poi Giro Sensor Lo stabilizzatore Che lo possiamo Attivare O disattivare È un stabilizzatore Digitale Poi Il sensore Di movimento Qui vedete Già Incomincia A non essere Più In italiano Lo possiamo Abilitare Disabilitare L'audio Abilitato Il volume Dell'audio Possiamo Regolarlo La stampa La stampa Della data Se vogliamo Attivarla O no L'uscita TV Modo Della TV NTSC E PAL Mettiamo il PAL Che è il nostro Formato OS D Mode Se vogliamo Far apparire Il menu Nel nostro Schermetto Poi c'è Lo SLU Movie Se vogliamo Fare dei filmati Rallentati Dimensioni Dell'immagine Qui abbiamo Il 12 Mega Il 10 Mega L'8 Mega E 5 Mega Usiamo Il 12 Mega Ecco qui Bilanciamento Del bianco Luce diurna Nuvoloso Tungusteno Se abbiamo Delle regolazioni Che vogliamo Fare Io di solito Lo tengo In automatico ISO Se vogliamo Impostare Degli ISO In automatico Oppure Vogliamo dare Una regolazione Proprio manuale L'esposizione Se vogliamo Aumentare O diminuire L'esposizione Poi c'è Il continuato Che sarebbe Autoscatto Continuato Self timer Come lo chiamano In inglese L'eliminazione Di qualche file Formattazione Della scheda Della scheda Di memoria Il wifi SSD Se vogliamo Cambiare Il nome Del wifi Questo qui La password Solita Il modo Se vogliamo Usare la cam Come dash cam Numero di licenza Set Se per caso Vogliamo Personalizzare Il menu Il menu Con qualche Dicitura Poi c'è La lingua Date e ora Spegnimento Automatico Io Non la voglio Fare spegnere E quindi Gli metto off Segnale Acustico Se Vogliamo Una conferma Mentre Piemano i tasti Il settaggio Della luce Poi Lo screensaver Famoso La frequenza Della nostra Luce La frequenza Della luce Le impostazioni Della Delle predefinite E poi Qui c'è la versione Io ho provveduto Ad aggiornare Questa cam Questa è l'ultima Che Si trova Disponibile In questo momento Del 16 novembre Del 2015 E la V1.1S Ora Andiamo a vedere Come Impostare Il nostro Wi-Fi Su questa cam Attiviamo Il Wi-Fi Premendo Questo tastino Ecco Allora Abbiamo attivato Il Wi-Fi Che è questo Poi Prendiamo Il nostro Smartphone Eccola qui Questa La SG5000 Ce la troviamo Allora Abbiamo inserito La password Facciamo La connessione E aspettiamo Che si connetta Il nostro smartphone Si è connesso Poi Andiamo Sulla App SJCAM HD Io uso Connect your camera Eccola qui Eccola qui E' perfettamente Connessa Con Con la nostra Cam Come vedete Qui ci sono Tutte le impostazioni Vedete Quindi Abbastanza Semplice Io Non amo Usare l'app Col telefonino Perché mi sembra Praticamente inutile Poi Sono Sono Abbastanza Lente Quindi Non Non la uso Anzi Non l'ho mai usata Una funzione Del genere Credo di aver detto Quasi tutto A riguardo Di questa Cam Fra poco Io Vorrà fare Un versus Con La Con le altre Cam Con le altre Cam Che Hanno Questo Questo Tipo Di chipset E vale a dire La Firefly 6S E la GTAP2 E poi Verrà usata La GoPro Hero 4 Come Riferimento Per Diciamo Per Tutte e tre Ok Allora io vi ringrazio Per aver Seguito Questa Mia Recensione Sulla SJ5000X Questa sarebbe La Light E Vi do Appuntamento Ai miei prossimi Video Un ciao ciao A tutti da Ferli Ciao 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 Ciao